Ultima serata dal sapore balneare per la fiera di San Lorenzo a Gussola che chiude così una 5 giorni intensa per un'edizione che ha puntato sulla varietà delle proposte per attirare diverse fasce d'età e dunque più persone possibili. Village è uno spettacolo che porta la spiaggia in paese anche per chi magari non ha l'occasione di fare un salto in riviero che invece ha deciso di scegliere un periodo diverso per andare al mare rispetto all'inizio di agosto. Balli di gruppo, tormentoni estivi, spettacolo di suoni e luci nel parco Lombardi dove il servizio cucina ha continuato a funzionare come nei giorni precedenti così come il Luna Park in piazza Comaschi. Il bilancio del sindaco gussolese Stefano Bellifranzini all'interno degli spazi dove è stata allestita la mostra che ricorda le origini della fiera di San Lorenzo è più che positivo. Cinque giorni di fiera di San Lorenzo, cinque giorni di grande flusso a Gussola, abbiamo rispettato quella che è la tradizione importantissima per la nostra comunità e allo stesso tempo abbiamo fatto vivere quella che è la nostra comunità e il territorio. Siamo soddisfatti di quanto realizzato e devo ringraziare davvero l'Auser che ha lavorato in questi cinque giorni sia in cucina che nell'organizzazione, i giovani ragazzi che hanno fatto un servizio di tavoli grandioso, gli amministratori che hanno coadiuvato le associazioni a organizzare tutti gli eventi di questi cinque giorni. Chiudiamo questa sera con un grande flusso di persone vogliosi e desiderosi di proseguire con questa grande fiera di San Lorenzo anche per il 2025.